Una giornata all'insegna di scioperi e cortei in Campania così come nel resto d'Italia, ad incrociare le braccia sia il personale docenti, aderente al sindacato Sisa e all'USB, che quello del trasporto pubblico, sia per USB che per lui il trasporto. In piazza, inoltre, gli studenti per il quarto Friday for Feature, anche a Salerno, nuovo corteo, tra Corso Vittorio Emanuele e Lungomare, per rilanciare gli appelli ai governi ad intervenire per l'ambiente. Non solo parole, comunque, ma anche atti pratici, tra pulizia delle spiagge e raccolta di plastica abbandonata. In occasione del quarto sciopero globale per il clima, lanciato dal grande movimento globale che è il Friday for Feature, anche a Salerno abbiamo aderito a questo grande strike di piazza. L'abbiamo fatto in maniera particolare, provando a riconoscere quelle che sono anche le pratiche dell'ambientalismo. Ieri con un clean up, appunto, nelle diverse spiagge salernitane, in compagnia di diverse realtà e associazioni, come Voglio un Mondo Pulito, che stanno provando a mettersi a disposizione anche con opere di volontariato per ripulire la città. Sappiamo che questo è importante per dare un segnale. Infatti abbiamo raccolto tutta la plastica dispersa, gettata, senza farla differenziata, senza avere prontezza del fatto che dobbiamo necessariamente abbattere il consumo della plastica per poi abbandonarlo definitivamente perché inquina il pianeta. Stamattina anche gli studenti e le studentesse di Salerno e delle province sono scesi in piazza proprio per ribadire che l'ecologismo e l'ambientalismo partono dai luoghi di formazione. Quindi anche noi nelle scuole, nelle università, vogliamo dei progetti di alternanza scuola-lavoro che non mandino gli studenti e le studentesse a lavorare in aziende che inquinano. Abbiamo avuto anche vari casi di studentesse e di studenti di Salerno che sono andati a lavorare per aziende che inquinano il territorio. Noi diciamo no a questo, diciamo invece ad un'educazione che spinga verso un sistema economico, un sistema sociale, ambientalista ed ecologista.